buongiorno buongiorno a tutti e bentornati sul canale per forza di cose dopo l'assenza di ieri mi tocca affrontare l'argomento mario sconcerti perché quello che è successo negli ultimi giorni è francamente molto grave molto grave per il ruolo che 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 ha il giornalista e soprattutto per le per le cose dette non solo post fiorentina inter ma anche in precedenza su su erling haaland ho visto che si è si è creata una forte undata di indignazione e francamente a me non piace mai quando c'è un tutti contro uno quindi sono anche in difficoltà a dover sottolineare alcune manchevolezze di di un collega in questo caso peraltro molto molto più più anziano e quindi c'è sempre quella sorta di di rispetto quasi dogmatico verso le istituzioni come direbbe un vero maestro come franco battiato è però non non si può far finta di nulla mi avete scritto in tantissimi soprattutto nella giornata di ieri proprio in questo senso mi avete chiesto di commentare le frasi di disconcerti su fiorentina inter ma io ci aggiungo anche quelle sull'attaccante del manchester city francamente quasi incommentabili quasi incommentabili per chi non lo sapesse ha una nota radio romana mario sconcerti commentando le vicende di a land l'ha descritto come uno con la faccia da quasi da sindrome di down non una faccia normalissima mi trovo in difficoltà mi trovo in difficoltà perché è come sparare sulla croce rossa non sai da dove partire e ho ascoltato tanti che hanno hanno parlato di di scivolone di buccia di banana ma io credo sia proprio un caso di ignoranza in realtà e mi spiace dirlo ma questa ignoranza non lo scivolone è paragonabile a un refuso a una sciocchezza che tu dici poi sono arrivate le scuse peraltro non immediate chiaramente il giorno dopo solo perché ha ascoltato lo ha detto lui non è che lo racconto io dei messaggi la mattina che gli raccontavano appunto come la sua scena fosse stata infelice già non se neanche accorto da solo lo scivolone tu te ne accorgi immediatamente che ha detto una castroneria e proprio a rimediare e non c'è bisogno che te lo vengano a dire gli altri fatta salva chiaramente la la buona fede ma resta un ignoranza secondo me proprio radicata già in questo paese che spesso usa handicappato usa ritardato 104 disabile come insulto ma come gay come nero come extra comunitario discorsi faccio fatica a commentare perché nel 2022 con un'istruzione media che dovrebbe essere ormai raggiunta per la quasi totalità della popolazione se non è ignoranza spiegatemi voi cosa cosa essere disarmante ecco disarmante 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 e poi l'altra l'altra sera addirittura per commentare i fatti di noti fatti di fiorentina inter con sempre sconcerti su sulle reti media set ha parlato di di attenuanti gli attenuanti che si davano anche per il delitto d'onore quando la moglie tradiva il marito ha parlato di di foga del momento parlato di frustrazione per il risultato che ti porta senza voler giustificare ma questa storia del senza voler giustificare mi ricorda tanto non sono gay o a tanti amici gay o non sono razzista tanti amici neri no questa roba questa roba qua che poi sullo stesso filone del no va bene stuprare chiaramente è un crimine ma andava in miniconna se l'è cercata siamo a quei livelli lì siamo a quei livelli lì ma come è possibile stare a quei livelli lì come è possibile stare a quei livelli lì e se ci vuoi stare ma stacci a casa tua dentro le quattro mura dici qua faccio scivolone in continuazione basta mi ritiro a vita privata che poi anche qui si da parte e poi è venuta anche fuori la storia del della differenza delle città perché poi nel discorso su sempre lì a nell'era di media set ci si è messo dentro anche sandro sabatini ex peraltro per chi non lo sapesse ha detto stampa dell'inter degli anni in cui l'inter presentava ronaldo tanto per dirvi secondo sabatini 4 a 3 all'ultimo minuto anche a san siro la gente avrebbe fatto le stesse cose con i tifosi della fiorentina parte che non è così inter roma ci sono tantissimi tifosi della roma san inserito con la maglia della roma hanno esultato nessuno ha detto no poi anche stare a generare ecco perché se voi vedete qui dirò una una sciarpa della fiorentina perché finché non si capisce che l'avversario è un rivale ma non è un nemico mi sa che non andiamo lontano se poi addirittura li giustifichiamo anche in qualche modo perché poi di fatto quelli si trasformano in alibi si trasformano in giustificazioni attenuanti ma attenuanti di cosa io vado allo stadio ci vado con la mia maglia ci vado con i miei colori non vedo perché non possa andarci l'unica discriminante è restare nella legalità se pago il biglietto posso vestirmi come mi pare secondo il decoro urbano e civile non secondo i colori che piacciono a te perché se io arrivo al madrid barcelona voglio andare con la maglia dell'olanda non posso andarci perché sia inter fainor dove andare con la maglia del del milan non posso andarci chi lo dice non sei tu è una privazione della libertà clamorosa e la giustifichiamo noi che dovremmo essere le parti terze quantomeno le parti senzienti e anzi si si va sul benaltrismo si va su sul così fan tutti no la solita italietta la solita italietta e allora continuiamo a giustificare continuiamo a giustificare tutto magari anche il buon adolfo no aveva delle delle attenuanti generiche da bambino aveva avuto dei problemi il buon benito no anche lui c'è stalin no avrà sofferto ma l'ha sofferto sicuramente pino c'è quante quante ne ha passate imbarazzante imbarazzante poi ho ascoltato alcuni parlare dell'età dell'età sai l'età altra sera ho assistito dal vivo un concerto bellissimo a teatro sono andato con mia moglie e mio figlio di angelo branduardi che già da qualche tempo ha soprato i 70 anni e a me sembra meglio oggi che quando aveva 30 quindi come vedete non è questione di età questo non è come ci arrivi sembra che piero angela negli ultimi suoi tempi continuano a fare discorsi lucidissimi molto molto più accurati e molto più approfonditi di tanti ventenni di tanti trentenni no e allora è questione di cultura no questione di apertura mentale forse e tant'è che poi viene fuori anche in maniera bambinesca fanciullesca in una frase di sconcerti l'altra sera viene proprio fuori il noccio della questione quando dice voi chiamate me e cosa volete da me voi criticate la mia città io difendo la mia città e quindi una sorta di razzismo malcelato fondamentalmente dalle parti mie si dice nu sem nu ossia noi siamo noi quindi come come spesso accade chi è chi è razzista verso gli altri magari di altri paesi poi è razzista verso qualcuno di altre regioni poi è razzista verso qualcuno di un'altra fede calcistica poi è razzista verso qualcuno di un altro quartiere della stessa città poi è razzista verso qualcuno di un altro edificio dello stesso quartiere poi è razzista verso anche un cugino e poi è razzista verso il fratello e alla fine si rimane da soli davanti a uno specchio e sta tutto lì a vedere che figura poi riflette questo specchio un saluto grazie a tutti